Voci dalla Sicilia classica Sono come marionette e il loro filo e la passione. Sono tuttavia uomini, uomini ridotti marionette e dunque profondamente pietosi. Ben trovati, sono Provvidenza Maria Mogavero. Vi do il benvenuto al secondo appuntamento con Pier Maria Rosso di San Secondo, nella veste questa volta di autore teatrale. I testi di oggi sono ancora opera preziosa di Chiara Moulet, mentre le letture che ascolteremo sono proposte da Stefania Sperandeo. La prima vera e propria testimonianza delle tendenze del teatro di Pier Maria Rosso di San Secondo va rintracciata nei sette componimenti delle sintesi drammatiche, pubblicate nel 1911, ma composte tra il 1905 e il 1908. Qui Rosso si allontana dal teatro borghese ottocentesco e dal dramma storico ed inizia un periodo di sperimentazione, dove il linguaggio è ridotto all'essenziale e i contenuti indagano su temi come la vita, la morte, la passione o l'incomunicabilità. Emblematiche nelle sintesi sono la notte e l'occhio chiuso. La notte rappresenta il momento ideale per cogliere l'uomo negli attimi della sua introspezione più profonda. È in questa fase del giorno che l'uomo ha infatti la possibilità di capire il vero delle cose, del mondo che lo circonda, quando, come dice l'autore, dormono quelli che hanno l'anima in pace e veglia la gente irrequieta. L'occhio chiuso rappresenta il guardarsi dentro, l'introspezione, che deriva dal gesto della palpebra di chiudersi. L'occhio e la palpebra confrontano le loro opposte prospettive, come sentiremo nel dialogo che segue. Una capace di rappresentare e di credere alle forme, l'altra che tende oltre. Gente di taverna, veglia quest'ora o gente irrequieta, dormono quelli che hanno l'anima in pace e quest'uomo non è in pace. Lo so, ma tu chiuditi, questi mi tormenta, sforzati, ma perché tanto interesse? Quando ti chiudi, io mi ricolgo e guardo dentro. Che vedi? L'angoscia di quest'uomo, raffigurata in ombre, in persone, in gesti. Io rido, vedo un essere che si tormenta per nulla. Dopo le prime esperienze teatrali e narrative, Rosso è consapevole, all'indomani della Grande Guerra, del fatto che si è dissolto tutto un mondo di valori etici e culturali su cui la generazione precedente di scrittori aveva basato la propria linea poetica. Sul finire del 1917, Pier Maria Rosso di San Secondo torna dal fronte orientale piuttosto sommaccato, come si ricava da una lettera scritta a Virgilio Talli da Luigi Pirandello, padrino amorevole che prepara per il ritorno del figlioccio d'arte convalescente una sorpresa che lo porterà alla rinascita come drammaturgo, dopo dieci anni di silenzio in scena. «Il mio povero e caro San Secondo è uscito ora dall'ospedale militare, in assai tristi condizioni di salute e di spirito. Ci vorrebbe una buona scossa per lui». Epistola, datata 14 dicembre 1917, in Sabatino Lopez, dal carteggio di Virgilio Talli, Treves, Milano, 1931. La scossa auspicata è, infatti, l'allestimento di un nuovo dramma, una scossa che segna la storia del teatro italiano. Pirandello si fa subito promotore dell'opera drammaturgica di Rosso di San Secondo. Nel 1917 impone quasi al capocomico Virgilio Talli la rappresentazione dell'opera «Marionette, che passione!». L'ormai affermato capocomico si mostra inizialmente perplesso per come il pubblico, ancora impreparato alle novità che propone l'autore, avrebbe potuto accogliere quest'opera. L'insistenza di Pirandello porta, infine, alla rappresentazione del dramma. La sera del 4 marzo del 1918, al Teatro Manzoni di Milano, va in scena «Marionette, che passione!». La commedia in tre atti è costituita da un preludio che contiene l'avvertenza per gli attori. Tengano presente gli attori che questa è una commedia di pause disperate. Le parole che vi si dicono celano sempre una esasperazione che non può essere resa se non in sapienti silenzi. L'arbitrario, inoltre, che può parere vi sia nella commedia, risultando dal tormento in cui si macerano i personaggi, non deve dar luogo al comico, bensì a un sentimento di tragico umorismo. Pur soffrendo, infatti, pene profondamente umane, i tre protagonisti del dramma specialmente sono come marionette e il loro filo e la passione. Sono tuttavia uomini, uomini ridotti marionette e dunque profondamente pietosi. L'opera teatrale va in scena per la prima volta con l'interpretazione di Maria Melato, la signora dalla Volpe Azzurra, Annibale Betrone, il signore in grigio, Ettore Berti, il signore allutto, e Ione Frigerio, la cantante. L'esito è contrastato e soltanto dopo la prima parigina del 1923 ottiene un enorme successo e registra un'elevata risonanza, soprattutto nel mondo della critica teatrale, che da allora prenderà il sopravvento su quella letteraria. Nell'opera si agitano i tre protagonisti principali, vagabondi senza nome. Sono appunto il signore in grigio, il signore allutto, e la signora dalla Volpe Azzurra, insieme ad altre comparse che popolano la scena quasi in silenzio. Oltre ai tre protagonisti, ad assumere un ruolo essenziale per il dramma sono la cantante e colui che non doveva giungere. La scena si svolge nel giro di mezzagiornata, in una domenica piovosa a Milano. Nel preludio ci viene offerta da Rosso un'approfondita descrizione di come queste marionette, nelle quali lo spettatore stesso può identificarsi, vaghino senza una meta nella città vuota. Ci troviamo a Milano durante una domenica pomeriggio. Una grigia pioggiorellina fa da sottofondo alla vicenda. Lunghi pomeriggi domenicali, con le strade deserte, le botteghe chiuse, è un cielo grigio, desolato, sullo squallore della città. Sull'astricato, picchierella, un'ugiosa pioggiolina che sembra non deve finir più. È un venticello noioso, tratto tratto, facendo variare l'acqua sulla via, porta le note monotone, lamentose, d'un organino lontano, lo stridio di un violino, dell'orchestra di un caffè o le risate sforzate di una comitiva che va saltellando coi piedini ben calzati fra le pozzanghere, illudendosi di traversare la strada senza bagnarsi. Gli sperduti nel mondo, i senza casa, i vagabondi che tra la vita febbrile della settimana si sfiorano forse cento volte il gomito senza riconoscersi, si ritrovano e si riconoscono in questi desolati pomeriggi domenicali quando gli altri, liberi del lavoro feriale, trattenuti dalla famiglia o dalle relazioni di amicizia, nel calore chiuso di una vita sobriamente costituita, sembra che abbandonino il campo della loro attività giornaliera a quelli che sono fuori della norma comune. I tre personaggi privi di identità non sono altro che la crisi e lo smarrimento dell'umanità destinata inevitabilmente alla solitudine. essi infatti, estranei l'uno all'altro, si incontrano per caso nell'ufficio di un telegrafo e finiscono per confidarsi le loro infelici passioni, cercando in vano di istituire fra loro un rapporto. Gli spostati in tutta la varietà della loro specie, allora incontrandosi sotto il portico di un teatro dove si sono fermati ad osservare sbadigliando l'annuncio di una nuova opera sulla soglia di un caffè dove sono rimasti ad aspettare che spiova o svoltando il cantone della Borsa, un luogo ordinariamente così affollato ed ora deserto o nell'atrio della Posta dove stanno a riparo due solitarie guardie di questura con le impermeabili stillanti o ancora nella sala del telegrafo sonnecchiosa e traversata di tempo in tempo tra lunghe pause dai passi lugubri dei pochi che entrano, scrivono, trasmettono, tornano indietro incontrandosi i randaggi della vita in questi funebri pomeriggi domenicali ad una semplice occhiata si riconoscono è un attimo è sufficiente perché si comprendano si compiangano si disprezzino profondamente e passino oltre. Il punto di partenza il come i personaggi siano giunti al momento iniziale del dramma è attraverso quali vicende non importa la vera protagonista è la passione che divampa in essi. però talvolta quando la loro pena rasenta il tremito della crisi tanto da soverchiare lo sforzo che pur fanno per costringerla in una veste di esterna dignità non è allora difficile che con un pretesto qualsiasi due di essi si tendano la mano e senza essersi mai veduti prima in pochi minuti e con una facilità raccapricciante si svelino l'un l'altro la propria vita soffrano dei reciproci tormenti si amino un momento e poi si allontanino nauseati delle debolezze senza vere condia vicendevolmente rivelatesi credo che nulla tra gli uomini sia più depravante di queste improvvise espansioni di anime fiacche ai ritegni dei freni interni però se le disapprovo non so meravigliarmene avendo anch'io lo spirito sbattuto d'un vagabondo conoscendone quindi in me i moti psicologici che le determinano la passione dunque è l'unico spiraglio nel cerchio chiuso e senza speranza della vita dell'uomo l'ansia con la quale i personaggi sansecondiani perseguono ogni tipo di avventura amorosa sino a spingerla all'estremo limite non ha mai un movente che sia esclusivamente sessuale è sempre alimentata da una speranza più generale che porta prima o poi l'uomo a una dissoluzione totale per questi eroi drammatici la passione è la maniera più immediata per evadere verso una vita che essi sperano sia piena di nuove prospettive ma che si rivela essere la medesima trappola dalla quale tentano di fuggire per mettere in scena questo spaccato di vita quotidiana Rosso sceglie il genere medio che gli permette di interloquire meglio con il suo pubblico l'autore inventa così anche nuove forme linguistiche avviene la rottura del dialogo tradizionale con il suo teatro Rosso impone un linguaggio spezzato fatto di pause che portano a galla tutte le incertezze che si annidano nell'animo umano come accennato prima l'autore fa incontrare i tre protagonisti identificati da un colore del vestito all'interno della grigia sala di un telegrafo in un luogo comune solitamente affollato dove le persone entrano ed escono per comunicare le proprie gioie o le proprie sofferenze di contro Rosso vuole invece rappresentare il dramma della solitudine che caratterizza questi tre personaggi essi hanno perso qualsiasi contatto con la vita e ci vengono presentati senza identità senza un passato e quando compaiono sulla scena il dramma di ognuno di loro si è già consumato il signore in grigio è il primo ad entrare in scena giunto nella sala per scrivere e spedire un telegramma sta seduto al grande tavolo scrivendo e stracciando più volte il suo telegramma in seguito si aggiungono allo stesso tavolo il signore al lutto e subito dopo la signora dalla volpe azzurra tutti e tre tentano di scrivere i loro telegrammi ai loro ex amanti che li hanno abbandonati traditi o battuti i primi a riconoscersi sono il signore al lutto e la signora dalla volpe azzurra che iniziano a confidarsi le loro pene e insieme con coraggio decidono di ricominciare a vivere per lasciarsi alle spalle il loro passato tutta la discussione è seguita in silenzio dal signore in grigio che sa perfettamente da quali pene vengono i due sconosciuti ma soprattutto sa a quali maggiori pene stanno andando incontro il signore in grigio decide così dopo aver ascoltato a lungo i progetti del signora lutto e della signora dalla volpe azzurra di intervenire e li mette in guardia sulle loro scelte dichiarando che il loro è un terribile sbaglio presto infatti i due finiranno per accorgersi che la loro unione è solo finzione e inizieranno anche loro ad odiarsi fino anche ad uccidersi vedete è bastato che io un estraneo picchiassi alla vostra coscienza e siete ricascati ma su signori non abbiate cotestaria umiliata dinanzi a me io non sono né un ispettore di polizia né un giudice istruttore né voi stavate per commettere nessun delitto contemplato dalla legge soltanto poiché io sono uno sciagurato come voi nell'ascoltarvi da quest'angolo di tavolo ho avuto rabbia pena angoscia nel vedere rispecchiata in voi la mia stessa miseria pazzie signori miei credete a un uomo che è stato per commetterle tutte quest'uomo le ha pensate tutte poi ha compreso che la passione era invincibile che bisognava lasciarla logorare piano piano egli è cosciente da tempo che nulla si può fare contro la forza della passione le pazzie che i due sono pronti a intraprendere e che anche egli stava per compiere non porteranno a nulla al massimo si può vivere illudendosi un po' così preannuncia agli altri due che si odieranno che uno di loro due ucciderà l'altro il signore in grigio è l'unico dei tre ad avere perfetta consapevolezza che la vita non abbia soluzione egli sa che non c'è scampo per chi si sforza ancora di camminare al ritroso volendo diventare un personaggio attivo non più marionetta accetta la privazione dell'amore e desidera la propria morte ma in realtà il gesto estremo del suicidio nasconde l'ennesima illusione non è manifestazione di libertà del soggetto ma definitiva vittoria dell'oggetto d'amore perduto l'omaggio al nostro conterraneo rosso di san secondo e al suo modo di concepire una letteratura di rottura e innovazione si conclude qui appuntamento a presto avete ascoltato voci dalla sicilia classica una rubrica di caleidoscopio a cura di providenza maria mogavero e maria angela pupillo a a a